Grazie, bellissima, complimenti, molto piacere, molto piacere, avvocato, molto piacere, prego, grazie, eccoci, io ho avuto un incidente e sono ancora così con il tutore, ho fatto l'operazione, ci vorrà ancora una decina di giorni, una rogna, però vabbè, succede purtroppo l'osciatore della domenica, non viene perdonato, bene, siete arrivati da poco Roma? Sì, 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 bene, auto e metro, abbiamo utilizzato, quindi avete lasciato la macchina? Sì, in zona Aurelia, ottimo, sì, sì, è l'unico modo, poi con la metro, sì, sì, buonissimo, allora, quando volete, così magari ci facciamo due chiacchiere, va bene, grazie, grazie.